Ma la ragazzina sta come stanno tutti i figli di separati, eh? Quello che importa è l'amore, no? I soldi servono, no psicologo. Come ti chiami? Barbara. E come stai, Barbara? Sta bene. E quanti anni hai? Otto anni. Immagina che questo qua è in fondo il mare. Puoi metterci dentro tutte le forme che vuoi. Ma che è un gioco? È un modo di sognare con le mani. E lei non gioca mai. All'otto? Ebbè, se non gioca lei con questo nome. Fortunata. Devi giocare col cuore. Devi fare una strategia basata sull'amore. Come sta? Come vuole che sta? Come la conosco io e Barbara non la conosce nessuno. No, no, no. Come sta lei? Ma che se pensa che mi esito qui e racconto i fatti miei? E allora perché sei seduta? Non sta bene! Ma tanto che me ne frega a voi, eh? Tu non sai la merda che mi ingoi ogni giorno con il sorriso in bocca? Io non ti posso più vedere, lo capisci? Io non posso più vedere tua figlia! Io non posso! Non posso, non posso! Ero il contone mio! E te te sapessi il mezzo! Tu non conti un cazzo, hai capito? Io ser padre o non c'ho diritti? Ma te la parola diritti non sai mai come cosa scrive. Però è il segreto nostro. Ma quale segreto? È solo cazzate noi due siamo capaci a dire. Ma tu non puoi vivere così! Ci sono le istituzioni, le regole! Sei sempre in guerra con tutto! Ma che regole hai rispettato quando mi sei zompata addosso? Ti non vado in giro a zompare addosso alla gente! Io mi so giocare a tutto, eh! Tutto quello che avevo! Ho perso tutto! E combattere lo stare contro tutto contro Oggi non ho tempo Oggi voglio stare spento Lo sai che mi diceva sempre mio padre? Ma chi lo dice che sta vita è meglio di quell'altro? Però questa è l'unica che conosciamo. Grazie a tutti!